Il numero 414 No? 410, chiedo scusa, Simone Marcotti Quanto è 53? Uh, sta per scendere un crono Fai ballo! È arrivato il numero 419 Fabio Vallauri 419 40 e 72 Il numero 357 è arrivato alla gara Intanto arriva il numero 426 Il numero 426 Mauro Carlo Carlo di Neve Uno 11 e 72 per il 426 Uno 11 e 72 Taglia intanto il traguardo Il numero 429 Simone Ferraro Ha recuperato la gara Il numero 357 357 Ah, eccolo, ora Ha rifatto il giro di nuovo 38 e 17 A parte che si aveva già fatto una volta Stai arrivando il 439 Che salta 4 430, chiedo scusa, Matteo l'astronico 445 Fabrizio Vaila Fabrizio Vaila Per il 5B 445 il veterale 41 e 61 Per il 445 Bravo, bravo Mi senti un po'? Taglia il traguardo Il numero Alessio Calzona 449 449 Alessio Calzona Con il tempo di 39 e 12 Alessio Calzona Con il tempo di 39 e 12 Il primo Calzona Alessio Secondo Pepino Daniele Terzo Marcocci Simone Luca Calzona Pepino Marcocci Non ci sono? Da un momento Ce n'è uno Adulti Femminile Per il tempo di C'è uno